Continua a correre veloce il virus in provincia di Arezzo nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 119, 101 a Siena e 59 a Grosseto. Complessivamente nel territorio della ASL Toscana a sud-est sono 283. I tamponi eseguiti in provincia di Arezzo sono 1.316, le persone ancora positive in carico 1.259, 61 i guariti e per fortuna nessun decesso. Preoccupa anche il dato ospedaliero all'interno della bolla Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo. I posti letto occupati salgono a 15. 3 le persone invece ricoverate all'interno della terapia intensiva. Alti i numeri anche dell'ospedale Covid di Grosseto. 25 le persone ricoverate nella bolla Covid, 5 in terapia intensiva. In provincia di Grosseto purtroppo ci sono anche due decessi, un uomo di 79 anni e un altro di 77. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.